Buongiorno a tutti bentornati sul mio canale, sono Orso. L'altro giorno ho trovato una gallina morta, una di quelle bianche, hanno pochi mesi di vita, sono tutte della stessa età, mi sono preoccupato e adesso dopo una prima analisi ho deciso di fare un trattamento contro i parassiti, anche se non ne ho. Ora vi mostro tutto. E' tornato sul canale. L'altro giorno ho trovato una gallina bianca purtroppo morta qui dentro, con la testa rivolta verso la scaletta come se dovesse andare a deporre le uova. Purtroppo non ho avuto segnale di sofferenza, io le controllo tutti i giorni. Era sana, era bella come le altre, quindi escludo un problema di parassiti, anche perché non ne ho mai avuti. Negli ultimi anni ho sempre usato la cenere di legna sia come desinfettante che come antiparassitario naturale. Hanno le zampe pulite, sono molto belle, ve ne faccio vedere qualcuna. Guardate che belle piume, le zampe sono pulite, non vi è nulla sopra. Se non togliere questa povera gallina ci ha rimesso le penne nel vero senso della parola. Allora mi sono un po' consultato con il negoziante dove vado di solito, mi ha spiegato il problema e allora mi ha dato una polvere antiparassitaria da mettere dentro. Non è disinfettante ma è proprio un antiparassitario. Non è nocivo per le galline, ciò nonostante nel momento in cui lo darò ovviamente per qualche giorno non mangerò uova, le prendo e le butto, le metto ai lombrichi. Le operazioni da fare sono queste, dovrò prima pulire tutto, vedete c'è ancora la paglia e la cenere di legna sotto. Dovrò pulire tutto, anche lì la cova dove adesso ce n'è una che sta covando, quindi non la disturbo. E poi lo spruzzerò. È una polvere, va data in polvere, io non ho il soffiatore, quindi dovrò in qualche modo aggiustarmi con le mani. a darlo un po' dappertutto, soprattutto negli interstizi. Questo è un ricovero di legno, quindi se c'è qualche animaletto va proprio negli interstizi e da lì devo cercare di stanarlo. Ma secondo me non ho niente, però comunque faccio lo stesso il trattamento. Adesso diamo una pulita e poi vi faccio vedere sia il prodotto e come lo vedrò. Oggi finalmente riesco a dare una pulita al pollaio. Dunque le operazioni da fare, come vi dicevo, sono le seguenti. Quindi raccogliamo le loro deiezioni, perché loro dormono lassù. Quella ovviamente la farò decantare poi per qualche settimana, mentre la paglia sporca la metterò immediatamente dai lombrichi che sto cercando di allevare da un paio di mesi a questa parte. Volevo fare subito pulizia, ma... Quindi per non disturbarla, adesso aspettiamo un attimino e mi preparo... Intanto raccolgo delle deiezioni e faccio da solo, non è uno spettacolo edificante, quindi quando è poi il momento di mettere l'insetticida, poi riaccendo la telecamera. La bianca ha finito di fare l'uovo? Probabilmente sì. Adesso andiamo a vedere insieme. Guardate che brave, raccolte ieri eh. Allora adesso io farò così, onde evitare di far del male le mie galline? Comincio a fare un ambiente per volta. Allora adesso dispruzzo questa polvere, soprattutto negli interstizi, mi aiuto con il compressore e dopo chiudo qui per qualche settimana, un paio di settimane, in modo tale che faccia effetto. Dopodiché pulisco tutto, metto la cenere di legna e riapro. Prima però finisco di pulire la parte dove ha fatto l'uovo. Il prodotto, come vi avevo fatto vedere l'altra volta, è questo qui. Adatto ovviamente anche per gli animali domestici. A me il venditore ha detto mettilo, anche se poi va un po' addosso alle galline e li fa solo bene, perché disinfesta anche l'oro. Ma a me questo discorso onestamente piace poco, quindi qui adesso metterò questo prodotto. Qui dentro invece che lascerò l'oro aperto, metterò la cenere di legna. Come dicevo questo lo chiudo e poi alternerò. Quando è il momento questo lo pulisco bene, metterò la cenere di legna e qui disinfesterò questa parte qua. Mentre la parte sotto, lì invece un po' di polverina gliela metto, mischiata con la cenere di legna. Ma poca. Un chilo per 500 metri quadri nelle grosse infestazioni. Qui quindi ne metto meno di un pugno e cercherò di farla andare negli interstizi. Ci vorrebbe un vaporizzatore ad aria. Ovviamente io non ce l'ho, quindi cerco di fare come posso. Vi faccio vedere. Adesso chiudo. Ah, ci sono un paio di ragnetti, guardate. Questi qua sono liberi. Per farli morire non serve a nessuno. Ok. Chiudiamo il tutto. Bene, ho chiuso così. Due mattoni, una tavola. Adesso facciamo decantare per un paio di settimane. Qui invece metterò dell'abbondante cenere di legna. Però prima di fare questo, faccio quella parte sotto. Finisco di dare una pulita. Bene. Mettiamo gli occhiali. Ci vorrebbe una mascherina qui, eh. Ehi, ehi, ehi. Togliti da lì. Dai che devo finire qua. Il lavoro. Vai, fuori. Vieni fuori, dai. Mannaggia. Oh, ceneri di legna. Questa è in abbondanza. Ah, ecco, vedi che te ne vai? Questa non ha controindicazioni. Che li fa solo bene. Quando entrano si puliscono le zampe. Bene. Adesso ne mettiamo un po' nella cova. Poi mettiamo la paglia. Scusate per la qualità della ripresa, ma sono solo. Due mani ci ho. Benissimo. Un po' di paglia fresca. Bene. 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 E voilà. Le ragazze sono servite. Perfetto. Questo è il lavoro fatto finora. Adesso attendiamo qualche giorno. Vediamo un po' come va. E poi, come vi dicevo, fra una settimana o due, libero quella zona lì. Mi do una pulita. Metto la cenere di legna. E pulisco questo qua. E pulisco questo qua. Ragazzi, che fatica. Dai, ci vediamo fra qualche giorno. Chiudiamo il video. E vi do, ma i risultati no, perché c'è poco da vedere. Però almeno vi dico un po' le mie impressioni a distanza di qualche giorno di utilizzo. Ci vediamo fra qualche giorno. Bene. Sono passate circa due settimane da quando ho fatto il trattamento. Adesso andiamo a vedere un po'. Non mi aspetto di trovare chissà che cosa, ma... Sì, infatti, a parte qualche piccolo animaletto, c'è solo un cadavere lì. Altro non c'è. Niente, adesso vi do una pulita alla bella e meglio. Le metto la cenere di legna e li metto la paglia, quella nuova. Così faccio questa come nuova cova. Mentre l'altra, che hanno usato fino adesso, ovviamente la pulisco e li metto questa polverina qui. Volevo analizzare con voi. Abbiamo un ragnetto. Un altro ragnetto. Ovviamente gli HD, se ci sono, sono talmente piccoli che non riesco a vederli a occhio nudo. Forse quando avevo vent'anni li vedevo, ma adesso naturalmente sto scherzando. Ok, dai, do una pulita. Purtroppo devo tenere la telecamera con la mano e con l'altra fare le operazioni, quindi sarò un po' monco. Sono sempre da solo quando faccio sti lavori. Allora. Questa volta non sto usando il compressore, non sono riuscito a organizzarmi, però cercherò di fare quello che posso con le mani. Perfetto. Perfetto. Adesso mi invento come bloccarlo. Perfetto. Quindi, ricapitolando. Ho riaperto quella cova lì, dopo averla disinfettata per un paio di settimane ho chiuso questa. Adesso mi invento come bloccarla. Adesso aspetto un paio di settimane per quella, dopo lì che pulisco le apro tutte e due ovviamente. Ho voluto attendere un paio di settimane, prima di finire il video e di presentarvi questo prodotto, perché volevo vedere l'effetto sulle mie galline. Perché vanno bene le assicurazioni del venditore, ma il venditore deve vendere. Quindi, ricapitolando, con questo prodotto, adesso poi vi metto la scheda tecnica qui in sovrimpressione, noi facciamo fuori tutti quelli che sono gli acari, insetti striscianti, ragni, scarafaggi, tutto quanto. Questo, come vedete, anche in sovrimpressione qui sull'etichetta, sulla foto, ci sono le galline, c'è il cane, insomma, è adatto anche ovviamente per gli animali domestici. Però io ho voluto separare le cose, non farle entrare direttamente in contatto, almeno con i grossi quantitativi che ho messo con le mie galline. Invece ne ho sparso un po', come avete visto qui, sulla base. Ho atteso appunto un paio di settimane, non ci sono stati assolutamente problemi con le mie galline, non ha influito assolutamente sulla produzione delle uova. Una parola sola su quella gallina che era morta, che non l'ho detto all'inizio del video. Io l'ho analizzata, gli ho aperto le ali, ho guardato dietro la coda, ho aperto le piume della coda, ho guardato sul collo, ho guardato un po' dappertutto. La gallina era assolutamente pulita, almeno a occhio nudo io non ho visto nulla, quindi escluderei animali, parassiti e quant'altro. Purtroppo le galline ogni tanto muoiono, perché o si blocca l'uovo dentro, o si rompe l'uovo, quindi fanno infezione, fa la febbre interna, non ce ne accorgiamo. O anche loro hanno un cuore, un arresto cardiaco, non lo sappiamo, il fatto sta che io escluderei assolutamente l'azione dei parassiti. Però ho voluto fare lo stesso a questo trattamento, la verità non l'avevo mai fatto in uno di questi 3-4 anni che ho le galline, non ne ho mai sentito il bisogno. Stavolta ho voluto provare, ho voluto dargli un qualcosa in più in vista dell'inverno, visto che poi noi qui intorno metteremo il nylon, quindi si formerà comunque un po' di condensa dentro. Non volevo dare l'habitat giusto per questi animaletti e ho voluto disinfettare tutto adesso. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete consigli da darmi su come fate voi, so che molti usano la calce idrata, usano altre sostanze chimiche, se me lo volete scrivere nei commenti ve ne sono grato, vi ringrazio. Sono anch'io curioso di sapere come fate voi, magari posso imparare qualcosa da voi, così per la prossima volta sono pronto e preparato. Grazie per essere stati con me, se vi è piaciuto il video volete mettere un like, ve ne sono grato, se non vi è piaciuto mettete tutto in giù, almeno lo so. Non è stato un video edificante nel senso che ho dovuto pulire escrementi per due volte, ma insomma chi ha un pollaio lo sa, questa è la vita contadino, quello che mi vanto di fare io. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.